Buongiorno, buon sabato, bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa, andiamo come sempre a vedere in principio le prime pagine dei quotidiani regionali, poi apriremo anche uno spazio dedicato ai titoli nazionali, ma come detto andiamo sui quotidiani abruzzesi, il centro edizione di Pescara, ma poi vedremo tutte le altre edizioni provinciali e anche gli altri quotidiani regionali, aprono con l'omicidio a Torino di Sangro, uccide la moglie a colpi di bastone, il femminicidio avvenuto ieri mattina, lei 65 anni, lui 68, l'uomo ha confessato. Andiamo avanti con la lettura di questa prima pagina, nel taglio alto il richiamo dalle cronache internazionali, aggressioni a colpi di coltello, attacco terroristico a Londra, morti due passanti, otto feriti, torna dunque la paura nella capitale dell'Inghilterra, poi ancora andiamo nelle cronache, la Pescara del futuro, sì della Giunta, i parcheggi nel sottosuolo, riqualificazione graduale dell'area di risulta, parcheggi interrati in piazza Primo Maggio, strutture turistiche nell'ex Cofa, ecco alcune novità del nuovo documento unico di programmazione approvato dalla Giunta. Poi ancora il disco verde del comune, spiaggia libera unita alla Pineta a Monte Silvano, la Pineta di Santa Filomena e la spiaggia di Villa Verrocchio torneranno ad unirsi e il progetto che cambierà la riviera nel tratto a ridosso della spiaggia libera che ha ospitato il Jova Beach Party. Poi ancora caccia agli evasori a Francavilla per la tassa dei rifiuti c'è un buco da 4 milioni di euro. Poi la vicenda a Rigopiano, via le richieste di danni, la società del resort chiede 4 milioni e mezzo agli imputati, le parti civili, il sequestro dei beni. Nel centro pagina lo sciopero per il clima a Pescara, 500 ragazzi in corteo politici, più rispetto per l'ambiente, questa la richiesta dei ragazzi per i cosiddetti Fridays for Future. Poi di spalla lo sport con il Pescara a Galano contro Iemmello a Perugia sarà la sfida del gol nella partita di domenica. Poi andiamo a vedere il taglio basso con il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il titolo, quei vigili del fuoco scintille nel buio. Continuiamo con la lettura del centro, come detto le aperture delle quattro edizioni provinciali sono tutte uguali, qui siamo nell'edizione Tiatina che nella fotonotizia ci fa vedere anche rilievi da parte della scientifica, ieri subito dopo l'omicidio, ma andiamo a vedere invece le altre notizie su questa pagina. Nelle cronache tasse e vase, solleciti ignorati dai politici, ingiunzioni di pagamento datate 2008 e ignorate per 11 anni, decine di bollette da migliaia di euro dimenticate fin dal 2013, solleciti inviati tramite raccomandate e tornati indietro al mittente. Nuovi dettagli sulle tasse e vase da 14 politici a Chieti. Poi ad Ortona l'assessore si dimette, giunta azzerata, antenna 5G sul terreno del padre Francesco Falcone si dimette da assessore comunale e il sindaco di Ortona Leo Castiglione azzera la giunta e dice prendo un momento di riflessione. Poi ancora a Lanciano il mercato coperto, il rilancio arriverà con il Veglione. Ritroviamo anche la vicenda Rigopiano, ieri c'è stata l'udienza in Tribunale a Pescara con le richieste di danni e con i dubbi sulla riunificazione dei due procedimenti attualmente in atto. Poi nell'articolo di Spalla gli spettacoli all'Aquila Ornella Muti sono qui nel ricordo del terremoto, madrina della Kermess l'Aquila Film Festival ieri sera Ornella Muti. Andiamo avanti con l'edizione terramana del centro, il titolo di apertura come sempre sull'omicidio di Torino di Sangro. Andiamo a vedere adesso nelle cronache il post-sisma nel capoluogo aprutino e il Comune apra la ricostruzione edilizia volontaria. L'approvazione in giunta della relativa delibera permetterà di velocizzare le procedure di ricostruzione per diversi edifici. A Giulianova oggi lo sfratto del condominio solidale. Gli inquilini dovranno lasciare le proprie abitazioni entro oggi dopo la disdetta del contratto il Comune ha annunciato che saranno staccate anche le utenze. Sempre a Teramo il liceo Migli contesta l'accorpamento e poi andiamo a vedere nel centropagina Torrese e Castelnuovo tutti in un solo settore c'è il derby patto tra società e sindaco per un tifo senza violenza. Poi di spalla la cultura, scusate, a Teramo legalità oggi si conclude il premio Borsellino. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro. Nello spazio delle cronache, il delitto d'amico, ci sono i filmati delle telecamere che potrebbero dare una mano agli investigatori per far luce sul delitto avvenuto in un'abitazione in legno a Barisciano che ha visto soccombere un 55enne romano, Paolo D'Amico. Poi ancora andiamo a vedere ad Avezzano, evasione fiscale, assolti Pacilli e Chicarella avevano subito un sequestro di beni e immobili per un valore di 542 mila Euro circa con le accuse di riciclaggio e sottrazione di somme al pagamento delle imposte, accuse ora ritenute infondate. Poi Secinaro, allevatore nei guai, macella, pecore rubate. Andiamo a vedere il centropagina che in qualche maniera abbiamo già visto in precedenza con Ornella Muti all'Aquila Film Festival, sono qui nel ricordo del terremoto. E poi di spalla la cerimonia, serata di gala e consegna dei premi, Juzzi Re d'Oro, sempre all'Aquila. Lasciamo il quotidiano in centro, andiamo a vedere insieme adesso il messaggero nell'inserto Abruzzo. L'apertura è dedicata a quanto accaduto a Torino di Sangro, massacra alla moglie a bastonate. Domenico Giannichi, 68 anni, ripreso da un raptus durante una passeggiata con la coniuge Luisa Ciarelli, di 65 anni, inseguita nel bosco e finita con mazzate alla testa. Movente oscuro, paese sotto shock. Andiamo a vedere poi all'Aquila l'omicidio del sacerdote il PM condannate Don Paolo Piccoli. Questo è l'articolo nella finestra. Poi andiamo nel centropagina a Rigopiano, chiesti 4 milioni e mezzo di risarcimento e resource ceduto in leasing al A Real Estate, citati Stato, Regione, Provincia e Comune. La provincia dice che sono necessari 52 milioni di euro per le manutenzioni. Si parla della sicurezza dei viadotti e nuovo allarme in provincia di Teramo. Mancano le risorse per fare le manutenzioni necessarie. Ad Albadriatica la folla vuole linciare il molestatore, rischiò il linciaggio da parte di moltissimi turisti che quella sera erano sul lungomare di Albadriatica e che furono testimoni degli abusi sessuali. Di spalla nel cyberbullismo legge della Lega per combattere le prevaricazioni. La norma è stata firmata dalla consigliera Sabrina Bocchino. Poi nel taglio basso ad Avezzano, scuola rinnovata, crollano i pannelli, la pioggia copiosa di questi giorni ha provocato il crollo del controsoffitto della primaria Marco Pomiglio ad Avezzano. Andiamo a vedere le altre notizie nel taglio alto. Verso Natale transatlantico in Piazza Salotto, prova generale delle luminari e le luci d'artista. Poi il Giro d'Italia, la carovana Rosa il 19 maggio partirà da San Salvo e arriverà a Tortoreto Lido. Per quanto riguarda invece la Serie B, Sebastiani suona la carica. Il Pescara ora è in salute, così il patrono alla vigilia della partita col Perugia che definisce difficile. In casa del Delfino si pensa a macinare altri punti anche se mancano dei titolari. Proseguiamo con i quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura è Ennesimo Femminicidio. Uccide la moglie colpendola la testa con un ramo al culmine di una lite. Questo quanto accaduto a Torino di Sangro. Fra poco andremo a vedere anche il servizio proprio su questa notizia. Ma intanto completiamo la prima pagina della città. Si accende il Natale a Teramo, tutto pronto per le manifestazioni natalizie. Poi ancora Open Fiber fa un'altra scoperta archeologica. Pavimento Romano emerge lungo il corso vecchio di Teramo. Poi il maestro Cocciolito ha lasciato la Riccitelli, questo per quanto riguarda la cultura, dal Badriatica a Ciabattoni alla guida degli albergatori. Troviamo anche la lettera ai giovani firmata da Monsignor Lorenzo Leuzzi. Inizia il tempo dell'avvento, scrive il Vescovo di Teramo. E poi nel taglio basso, Mosciano e il Comune chiede di potenziare i collegamenti con i bus della tua. A Roseto di Lebruzzi, Casa Rosa riparte il progetto solidale del dopo di noi. Ma come detto, torniamo alla notizia principale di ieri che abbiamo visto nell'apertura di tutti i quotidiani abruzzesi, l'omicidio che c'è stato nella mattinata a Torino di Sangro. Vediamo il servizio. È stato forse un raptus dovuto alla depressione di cui pare soffrisse ultimamente dopo aver scoperto di essere malato. Domenico Giannichi, 67 anni, ha ucciso con un bastone la moglie Luisa Ciarelli, 65enne. Fatale un colpo alla nuca. Tutta la comunità di Torino di Sangro si interroga sul femminicidio che ha sconvolto il paese. La loro era una vita tranquilla, da pensionati. Erano circa le 10 del mattino, quando Domenico e Luisa sono usciti da casa in località Montesecco per fare una passeggiata in auto. Lungo la strada di campagna che conduce al mare, dopo circa un chilometro, è scoppiata la lite. L'uomo ha fermato l'auto. La donna è scesa per fuggire, ma il marito l'ha rincorsa e una volta raggiunta l'ha colpita con un bastone, forse anche delle pietre, fino a lasciarla esanime tra gli alberi. Quando Giannichi si è reso conto di ciò che aveva fatto, è tornato a casa ed ha chiamato il 118 dicendo di avere colpito la moglie. I carabinieri del paese lo hanno trovato con alcune ferite e i vestiti sporchi di sangue. L'omicida è stato ricoverato nell'ospedale di Lanciano, mentre la salma della donna è stata trasferita all'obitorio di Chieti per l'autopsia, che sarà eseguita lunedì prossimo. Sul posto i carabinieri del RIS per i rilievi indagano i militari della compagnia di Urtona. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Vasto. Era una coppia felice, sempre mano nella mano in paese, riferisce il sindaco Nino Difonso, amico di famiglia, sconvolto per l'accaduto. Tutta la comunità è sconvolta, una famiglia che nella comunità è stata sempre avuta bene. Fino a ieri sono stato con lui, con Giannico Domenico e con la moglie, tutti i familiari, una famiglia stupenda. Però cosa è successo da di loro questa mattina? Non so. E adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Il Corriere della Sera. Paura e morte sul ponte di Londra. L'apertura, attacco come nel 2017. Due le vittime, i passanti, riescono a fermare l'accoltellatore all'Aia. Intanto un altro assalto nelle vie dello shopping. Doppio allarme, la rivolta della folla con bastoni e mani nute e poi il killer è stato ucciso. Aveva un finto giubbotto esplosivo. Era in libertà vigilata. Qui vedete anche le foto di quanto accaduto sul London Bridge con il passante che stringe nella mano destra il coltello strappato all'attentatore. E questo è appunto il momento in cui viene circondato dalla polizia e poi ucciso l'attentatore con addosso il finto giubbotto esplosivo. Il rituale del terrore, la riflessione che ci propone Guido Olimpo, sempre su questo grave episodio in Gran Bretagna. E poi la forza di reagire, l'altra riflessione di Franco Venturini. Poi Di Maio minaccia la crisi sul fondo, salva stati. Il sondaggio scendono la Lega e 5 Stelle e sale la Meloni. Questo per quanto riguarda la politica, l'ira del PD. Se continuano così si ritroveranno con il Salvini 1. Questo scrive Francesco Verderami. Andiamo adesso su Repubblica. Anche qui il titolo di apertura è sull'attacco a Londra. Il terrore e il coraggio. Sul London Bridge, due accoltellati a morte. L'assassino disarmato dai passanti e poi ucciso dalla polizia era in libertà vigilata. Il Premier Johnson, straordinario l'eroismo dei cittadini. Altre tre persone colpite e sospesa la campagna elettorale. Nel frattempo in serata paura anche all'AIA. Tre olandesi feriti in un grande magazzino nel giorno dello shopping del Black Friday. Poi andiamo a vedere la riflessione. Un Natale blindato e l'articolo di Gianluca Di Feo proprio su quanto accaduto e sta accadendo in queste ore. Sicuramente sarà un Natale diverso dopo questi attentati in Gran Bretagna. Ancora governo invidico salva stati. I 5 Stelle vogliono il rinvio. PD così salta tutto. Il Ministro Gualtieri cerca l'intesa con l'Eurogruppo. La Cina contro i parlamentari italiani per la questione Hong Kong. Due ragioni per chiarire il punto di Stefano Folli. Le minacce dell'Ampi. Difendiamo Bella Ciao e invece l'articolo di Gad Lerner. Andiamo sulla stampa adesso. Il titolo principale su quanto accaduto a Londra. Morte su London Bridge. Coltellate in strada all'AIA. Torna la paura in Europa. Clima di massima allerta nella capitale britannica in vista del vertice della Nato. Due vittime e otto feriti sul Tamigi. Ha ucciso l'aggressore fermato dai passanti eroi. Poi questa fotografia. Il Popolo Verde lancia la sfida al Black Friday con gli scioperi del Friday for Future. Terra pulita o consumismo. È l'articolo di Gianni Riotta. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Cambiamo tenore in apertura. Intanto diserta il 55% dei voti in Senato. Chi è? Ma chiaramente Matteo Renzi che vedete nella fotografia. Chi paga i 50 viaggi di Renzi? Senatore Gran Turismo scrive il fatto. In 18 mesi conferenza gettone in Francia, Catarra, Arabia Emirati, Kazakistan, in una piccola città della Cina, l'imperdibile discorso a una fiera gastronomica. Dunque prosegue questi approfondimenti sulla vita di Renzi sul fatto quotidiano. Andiamo sul Sole 24 ore. Adesso il titolo di apertura. Governo bloccato. 5 Stelle all'attacco. Alta tensione. Parte del 5 Stelle contro l'intesa sulle autonomie. Linea dura sui negozi chiusi la domenica. Di Maio chiede correzioni al fondo salva stati, ma Conte cerca di trovare una mediazione. L'editoriale del direttore del Sole, Fabio Tamburini, dal titolo Basta con il fuoco amico sulle tensioni nella maggioranza PD 5 Stelle. Centropagina. L'intervista alla neopresidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, no allo scorporo della spesa green dal deficit. La cosa più importante, dice la von der Leyen, sarà dimostrare alle pubbliche opinioni che l'Europa può fare la differenza. Poi ancora, banche europee promosse. Ma l'allarme è sugli utili. Prospettive cupe. Il verdetto dell'Eba, per la vigilanza migliora la qualità del credito, bassa invece la redditività. Poi per quanto riguarda il DL fiscale, ravvedimento per i reati fiscali più gravi. Questo viene previsto nel DL. Poi andiamo su avvenire. Il titolo di apertura all'Europa sia leader di valori e tecnologia. Intervista al Presidente della Commissione europea. Impegno per il clima. Anche qui l'intervista a Ursula von der Leyen. Nessun timore sul debito italiano, sia la flessibilità per investimenti. Fondo salva stati, la Lega e Fratelli d'Italia attaccano i dubbi dei 5 Stelle. Il PD si appella al Premier Conte. Poi gli scioperi per il clima. I cortei dei venerdì dei giovani e gli acquisti dei sabati per il futuro. L'onda verde bagna i consumi. Questo è il titolo di avvenire. L'Italia ascolta Wong. Scontro con la Cina. Il Senato si era collegato con il leader ribelle di Hong Kong. Questo è il caso che sta facendo discutere. Andiamo sul manifesto. Titolo come sempre d'effetto sulla fotografia. Niente sconti con i ragazzi dei Fridays for Future che tornano in piazza in tutto il mondo rovinando, secondo il manifesto, la corsa allo shopping del breakfly dei clima e ambiente e pagano il prezzo del consumismo sfrenato. Contestazioni europee contro Amazon da Roma a Milano, da Venezia a Taranto in 300 mila a difesa del pianeta alla vigilia della COP25 da martedì a Madrid. Poi ancora le sardine in 20 piazze. Firenze l'epicentro. Tra oggi e domani flash mob antileghisti in tutta Italia da nord a sud. Andiamo adesso sul messaggero. Il titolo forte è su quanto accaduto ieri a Londra. i passanti eroi di Londra. London Bridge, lupo solitario, uccide due persone, disarmato dai cittadini e la polizia li spara. All'Aia 3 accoltellati nella via dello shopping, ordigno rudimentale a Gardu Nord a Parigi. Black Friday di paura nelle capitali d'Europa. Scotland Yard è un atto terroristico. Poi le indagini sulla morte di Luca Sacchi. Il PM Anastasia copre qualcuno. Luca ucciso per 70 mila euro di droga. Quattro in carcere. I killer volevano i soldi senza consegnare la marijuana. Questo emerge dalle carte dell'inchiesta Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi. Poi l'inchiesta sul narcotraffico a Roma. Diaboliche e boss dello spaccio arrestati. Tra loro c'è il mandante del delitto. Lasciamo il messaggero. Andiamo sul tempo. Ancora quotidiani romani. Ancora la svolta nel delitto della caffarella. Così titola il tempo. Nello zaino di Anastasia 70 mila euro per la droga. La fidanzata di Luca Sacchi non raccontò la verità. I PM volevano arrestarla. Risparmiata dal GIP è perché incensurata in carcere l'amico, tra virgolette, Giovanni di Princi. Andiamo adesso sul giornale. Il ministro sfolla imprese. Di Maio fa scappare anche l'IKEA. Cancellati due megastore per il rischio delle chiusure domenicali. Incertezza che viene sottolineata anche dall'associazione che riunisce la grande distribuzione. Abuse edilizi per il candidato 5 Stelle in Calabria. E poi il titolo forte sotto il titolo principale torna chiaramente anche la questione Londra. Ancora terrore in Europa. Spettro del ritorno del jihadismo. Coltellate i passanti a Londra e a Laia. Trovato Ordigno a Parigi. Andiamo su Libero. Il titolo di apertura. Liti su tutto per niente. Brutto segno. Il governo separato in casa. Ogni giorno un capetto della coalizione attacca un alleato indebolendo sempre di più la maggioranza. Unione Europea, tasse e giustizia, rischia continua. Il premier ormai è una sardina. Nel taglio alto da Londra a Laia dilaga il terrorismo nella capitale britannica. Due morti e numerosi feriti. Tre pugnalati anche a Londra. Partono i supersaldi. I jihadisti accoltellano i passanti per strada così libero. Andiamo sulla verità. Famiglia sotto controllo. Tutti i Renzi segnalati all'antiriciclaggio. Oltre che su quelli dell'ex premier, l'unità di informazione finanziaria ha indagato sui movimenti bancari di padre, madre, due sorelle e cognato. Sommando quelli del rottamatore dei suoi, i bonifici, tra virgolette, attenzionati, valgono più di un milione. Il senso del bullo per le case. A Roma abita con Bonifazi in quella di un big di unicredit. Poi il candidato 5 Stelle in Calabria vive in un abuso edilizio gigante. Il titolo sulla fotografia. Ancora politica e mercati preparano il ricatto per blindare la fregatura del nuovo mess, il fondo salva stati. Così la verità e il quotidiano di Belpietro. Andiamo sul mattino. Il titolo di apertura. I passanti eroi contro il terrore per quanto riguarda l'attentato a Londra. Due morti e dieci feriti. Il bilancio. L'aggressore bloccato dai cittadini ucciso dalla polizia. E allaia. Tre accoltellati nella via dello shopping. Parigi intanto. Ordinio rudimentale a Guardi Nord. Poi andiamo a vedere il centropagina. Il rilancio e la vergogna. Le due facce di Napoli. Inaugurata la nuova piazza Garibaldi. Rifiuti. Fallimento del comune. Poi De Laurenti. Sei ribelli. Fumata grigia sulle multe combinate dal patron del Napoli. Il secolo XIX. In apertura. Mattarella vuole risposte rapide sulle condizioni delle autostrade. Il capo dello Stato a Genova incontra alle autorità locali. Il governatore Totti dice. Condivide i nostri timori. La Liguria attende aiuti per fronteggiare i danni dal maltempo. Indagine sui viadotti. Accertamenti su altri ponti. È chiaro che in Liguria c'è una sensibilità particolare dopo quello che è accaduto con il Ponte Morandi. Andiamo sui quotidiani sportivi nazionali. La Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura è Mister Coraggio. Il ritorno di Mihailovic. Dopo quattro mese e mezzo il tecnico del Bologna racconta la sua lotta. Uomo non eroe. Malattia bastardo. Pianto ora mi godo anche l'aria. Così Mihailovic. Nel taglio alto Hamilton Ferrari. Ecco il contatto. Già due incontri con Elkan. Lewis può arrivare nel 2021. Binotto dice. Siamo orgogliosi che gli piaccia la rossa. Poi l'Inter compra Kulusevski a gennaio con i soldi di Gabigol. Milinkovic per giugno e c'è Vidal in vetrina. La sfida ai razzisti. Abbiamo sbagliato. Adesso muoviamoci la lettera aperta firmata da tutti i club. Nel taglio basso i tre anticipi di oggi. Torna Brescia Atalanta. Il Toro aspetta Belotti. Fiorentina chiese a K.O. Il brivido del derby. Baloscalpita. Carica Mazzarri in casa del Genova. Poi ancora il Corriere dello Sport. Anche qui l'apertura è su Mihailovic. Io sono ancora qua citando Vasco Rossi. La malattia. La paura. La speranza. Il Bologna. Mihailovic in lacrime. Rompe il silenzio. Razzismo. La nostra vergogna. Il mea culpa dei club di Serie A che invitano e si autoinvitano a fare di più. Poi ancora Chiesa a casa. Montella non lo convoca. Anticipi. La Fiorentina sfida. Lecce senza fede alle 20.45. Invece il Brescia rilancia Balotelli. Giocherà alle 15.00. E poi c'è il tracollo dell'Arsenal. La cacciata di Emery. Il tecnico iberico esonerato al suo posto. Il vice Ljungberg. Andiamo a vedere anche tutto sport e chiudiamo. Il titolo forte Juve 2020. Bianconeri già al lavoro sui parametri zero. E poi nel taglio alto l'altro titolo forte del giornale Tenero Acciaio. Questo Simoro per descrivere la personalità e la forza d'animo di Sinisa Mihailovic. Il tecnico di Bologna che lotta contro un tumore e una leucemia. E poi ancora Inter. La carica dei 200.000. Spal Roma e Barca. San Siro da record. E Vidal riapre un possibile trasferimento all'Inter. La svolta o l'incubo. Genova Toro. Il giorno del giudizio per Mazzarri. E poi Atalanta. Derby senza tifosi contro il Brescia. Nel taglio basso le frecce tricolori. Comandante Farina. In bici. Io volo alto. Un'eccellenza italiana verso i 60 anni. Ci fermiamo per il break pubblicitario. Andiamo a vedere anche le previsioni meteo. E poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal primo piano del centro. Dalla notizia principale di ieri. Questa doppia pagina che il centro dendica al femminicidio di Torino di Sangro. Ammazza la moglie a colpi di bastone. Il titolo tragedia incontrata a Montesecco. L'uomo fugge a casa ma viene arrestato. La lite mentre andavano a fare la spesa. Il corpo poi abbandonato nei campi. Due coniugi a modo. Mai un litigio tra di loro. Racconta il sindaco di Fonso. E' la tragedia che non ti aspetti. Ha detto a caldo commentando quanto accaduto. L'avvocato Paone, difensore dell'uomo, dice sotto shock. Non ricorda nulla. Poi la presidente dello sportello antiviolenza Emili di Santo Coppie da assistere prima per evitare le tragedie che accadono poi. Queste le sue parole commentando quanto è accaduto. Restiamo su quanto accaduto a Torino di Sangro. Andiamo a vedere adesso invece il titolo che fa il messaggero. Il racconto del messaggero di questa tragedia. Uccide la moglie a colpi di bastone. Delitto a Torino di Sangro. Domenico Giannichi, 68 anni, ha inseguito la donna nel bosco dopo la lite iniziata in auto. La vittima è Luisa Ciarelli di 65 anni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Fatale. Un fendente alla nuca. Alla nuca con un ciocco. Da qualche tempo era molto agitato. Il racconto che si fa dell'uomo nel paese. Il sindaco di Fonso parla dell'omicidio e ipotizza problemi di salute dietro quel gesto di impeto. E qui vedete invece il sopralluogo del PM e del medico legale ieri sul luogo della tragedia. Dunque questo quanto accaduto ieri a Torino di Sangro. Ma torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere adesso le altre pagine di Primo Piano. La tragedia dell'hotel Rigopiano. Il processo. Partono le richieste di danni. La società proprietaria del resort chiede 4 milioni e mezzo a tutti gli imputati, gli avvocati delle parti civili, il sequestro dei loro beni. e slitta l'unificazione dei due procedimenti. Il GUP rinvia al 13 di dicembre la decisione sulla riunione dei fascicoli sul processo madre e sul depistaggio. Il procuratore Serpi contrario alla sommatoria perché comporterebbe tempi più lunghi. Questo sostiene la procura. Andiamo a vedere sempre sul messaggero l'articolo che riguarda proprio quanto accaduto nella vicenda Rigopiano. Ecco qui l'articolo. Depistaggio atti nell'inchiesta madre. Il procuratore Capo Serpi ha fatto chiarezza sulle telefonate già note non determinanti sul mancato avvio dei soccorsi. Nell'udienza in merito al filone principale è stata avanzata una richiesta risarcitoria di 4 milioni e mezzo dalla Ariel Estate. Istanza di sequestro di beni immobili dei 25 imputati per 2,7 milioni parti civili. Lo Stato ancora assente. Questo è il racconto del processo Rigopiano. L'esposto intanto di Reboa non ha agito. Verna nel mirino depositato un nuovo esposto sulla tragedia. Sotto la lente Luca Verna, all'epoca coordinatore del posto avanzato del COC di Penne e tutti i partecipanti alla riunione in un retro bottega del Palasport di Penne poche ore dopo la valanga. Noi adesso andiamo a vedere insieme il servizio proprio sul processo, sull'udienza che si è tenuta ieri nel Tribunale di Pescara, in particolar modo sulla mancata riunificazione dei due procedimenti che sembrava cosa fatta e invece l'udienza è slittata ancora. Vediamo. L'aula numero 1 del Tribunale di Pescara torna ad ospitare l'udienza riguardante la tragedia di Rigopiano dove persero la vita 29 persone. Davanti al gruppo Gianluca Sarandrea. Primo punto all'ordine del giorno la riunificazione di due filoni. Quello sulla strage dell'hotel Rigopiano e quella sul presunto depistaggio dove l'ufficio del pubblico ministero, nella persona del procuratore capo Massimiliano Serpi, insiste per la non riunione che comporterebbe allungamento dei tempi. Su questo si è espresso Gianluigi Tucci, difensore di Giulia Pontrandolfo. Quanto è accaduto oggi in aula relativamente al processo che ci riguarda, cioè quello sul depistaggio, è la dimostrazione, l'ennesima riprova se vogliamo che se i due processi marceranno riuniti subiranno un inevitabile ritardo. Quanto è accaduto oggi è ancora la riprova della correttezza processuale di quanto oggi dichiarato in aula dal procuratore capo, il dottor Serpi. Il processo cosiddetto madre, il disastro colposo, l'omicidio plurino colposo di Rigopiano, necessiterà di un'istruttoria completamente diversa dal processo relativo al depistaggio, che è un processo a titolo di dolo specifico. Di là parliamo di un processo a titolo di colpa, per quanto gravissima sia, ma colpa. Noi dobbiamo invece eseguire un'istruttoria che vada a dimostrare o no l'esistenza del dolo specifico da parte degli imputati nel commettere il reato che la procura ritiene essere stato commesso. Sempre nella mattinata sono state accolte le costituzioni di parte civile, che saranno necessarie a definire la posizione delle parti civile costituite, sia nel corso dell'udienza del 17 ottobre scorso, sia quelle in data odierna, inviate al PM e difensore imputati per formulare le rispettive deduzioni. Per quanto riguarda invece il filone del depistaggio, c'è stato l'ennesimo rinvio al 13 dicembre ore 9.30 per dare opportunità alla difesa di consultare le richieste di costituzione di parte civile. Pagina Abruzzo sul messaggero. Il piano di riordino, conti e reparti, la sanità e al bivio dopo aver passato senza bocciature lo scoglio del tavolo tecnico, la regione è concentrata a far fronte alle perdite del comparto. Tre mesi per varare la nuova organizzazione degli ospedali, ruolo centrale per le ASL, la Giunta ha approvato i tetti di spesa. Sempre su questa pagina arrivi, il turismo cresce del 6%, intesa con Airbnb per una nuova spinta, le vacanze esperenziali, la formula per attirare soprattutto gli stranieri. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Nella pagina Abruzzo, Confindustria Chieti Pescara, le imprese si incontrano sul prodotto e sull'innovazione. Poi artigianato artistico e tipicità, Abruzzesi in mostra a Milano fino all'8 di dicembre. E poi il Consiglio regionale con la proposta della Lega Bullismo a scuola e in rete, una legge per combatterlo. La proposta è a firma della consigliera Bocchino, tra le misure anche aiuti alle famiglie più fragili. Andiamo a vedere adesso le pagine di Pescara, partendo dal quotidiano Il Centro. Il futuro della città, il piano approvato dalla Giunta, parcheggi interrati e piste ciclabili. Ecco i progetti della città del futuro. L'amministrazione comunale svela tutti i lavori che intende realizzare nei prossimi 4 anni. stop all'Ateneo nell'Excofa, rispolverata la proposta della sosta nel sottosuolo di Piazza Primo Maggio. Mercatino etnico chiuso, mascino, ai posti auto. Il Sindaco boccia la proposta dei consiglieri di Fratelli d'Italia di un parcheggio per lo shopping. Qualsiasi soluzione per il futuro dovrà essere valutata da tutta la maggioranza. Fra poco andremo a vedere questo servizio, andiamo a vedere l'apertura di pagina sul messaggero per quanto riguarda Pescara. La grande nave illumina lo shopping. Il Titanic con le luci d'artista e l'attrazione delle feste, grazie all'intesa tra comune e camera di commercio. Strever, un progetto nato per unire turismo e commercio cremonese. Partire con il Black Friday è segno di attenzione. Poi consigliere a pagamento e scontro. Pagnanelli all'attacco, si chiude il palazzo e si mette la tassa. Antonelli andava fatto prima, ci sono situazioni da corte dei conti. Poi sciopero per il clima, 700 studenti hanno sfilato in corteo il raduno sotto la regione in Piazza Unione. Dicono, non ci ascoltano ma sapremo come farci sentire. Poi il finanziere morto in moto sull'asse, un bullone compatibile. L'autopsia conferma fatale nella caduta il colpo alla testa. Il medico legale farà una verifica sul luogo della tragedia. Intanto un nuovo incidente sul raccordo finisce fuoristrada e rimane ferito. Un cinquantenne che viaggiava in direzione Pescara nei pressi dell'aeroporto. Poi accordo per i servizi del gruppo Ubi Red Centur, tutelati gli ex carichieti. Ma torniamo sul centro, come abbiamo detto, a quanto accaduto invece per il DUP e in particolare per il mercato etnico che viene chiuso dalla giunta Masci dopo che era stato fortemente voluto durante la consigliatura Alessandrini. Allora andiamo a vedere il servizio. Assessore Cremonese, era nell'area il mercatino etnico di Pescara dell'area della stazione? Chiude definitivamente? Quale sarà il futuro proprio di quella zona della città? Oltre che essere nell'area io direi che era un chiaro obiettivo della giunta di centrodestra. Carlo Masci si era dato tempo sei mesi insieme alla giunta di centrodestra per chiudere il mercatino etnico. In realtà siamo stati bravi e virtuosi perché in cinque mesi abbiamo dichiarato con la delibera di giunta 806 che è stata approvata ieri abbiamo dichiarato la chiusura del mercatino etnico. L'obiettivo, come ho già avuto modo di dire, era la chiusura del mercatino etnico perché a nostro giudizio, come abbiamo avuto modo di dire, in circa oltre 30 sedute di consiglia comunale alla loro aggiunta Alessandrini, per noi quella non è un'area idonea per svolgere attività commerciale. Quindi l'obiettivo è stato centrato. Adesso la maggioranza aprirà un ragionamento, una riflessione su qual è il futuro di quell'area che chiaramente deve essere sfruttata perché è un'area qualificata, riqualificata e quindi sicuramente il nostro percorso inizia da qui per uno studio su ciò che deve sorgere in quell'area. Orientativamente sono stati spesi circa 250 mila euro. Oggi la città di Pescara si ritrova, anche se non è un bene di proprietà del comune di Pescara, comunque si ritrova un'area riqualificata. Come dicevo prima, la maggioranza dovrà riunirsi e capire quale può essere la destinazione più idonea per quell'area. Per adesso sono state fatte delle delle ipotesi che sono del tutto personali. Una parte del mio gruppo ha sostenuto appunto un parcheggio destinato ai commercianti. Io per esempio ho chiesto di realizzare lì una cittadina dell'elettrico, cioè deve poter affittare bici elettriche, monopattime e quant'altro perché credo tantissimo nella mobilità sostenibile, ma altri hanno sostenuto anche altre idee come per esempio un museo del treno o tanto altro. Io credo che non si vada da nessuna parte con le iniziative personali. Bisogna sedersi, tutta la maggioranza deve insieme decidere, siamo una squadra, deve decidere qual è la destinazione migliore di quell'area. Torniamo sul centro. Il finanziere è morto sul colpo nel mirino alla sicurezza dell'asse. L'autopsia su Bellini fatale, un trauma violento alla testa. L'autopsia, scusate, l'inchiesta sopra al luogo per individuare il punto dell'impatto. Un'altra macchina finisce fuori strada vicino all'aeroporto, come abbiamo già visto in precedenza. Poi il liceo classico e le polemiche, lista esclusa dalle elezioni, scontro con la preside, i docenti protestano, così è stata uccisa la democrazia, la demico risponde, mancavano i firmatari, il reclamo fa sorridere. In 200 per l'ultimo saluto a Fiesoletti, prof di matematica, docente del classico e poi addio a Lina De Cecco, donò il terreno della chiesa del mare, oggi funerali a fare, aveva 93 anni. Festa con i coristi, il Titanic si illumina in piazza Salotto. Inaugurata la quarta edizione della rassegna Lucida Artista, all'8 dicembre si riaccende l'albero e arrivano le sculture. Nella pagina successiva alla manifestazione dei Fridays for Future, Pescara rispetti l'ambiente, 500 ragazzi sfilano per il clima in corteo lungo la pista ciclabile nel degrado fino al giardino fluviale. Accuse i politici locali, solo progetti di cementificazione, anche lo spaz importante per l'ecologia. Nella pagina di Montesitvano, l'area del Jova Beach Party, una terrazza sul mare, la pineta sarà unita alla spiaggia libera, primo ok della giunta. Coinvolto il tratto del litorale tra bagni bruno e sabbia d'oro, l'assessore alieno diventerà un'oasi verde pedonale. Poi la sentenza arrestato per evasione, ma non è più pericoloso, assolto all'uomo di Montesitvano. Nel 2014 era stata applicata la misura di sicurezza per la Cassazione, da allora è passato troppo tempo, l'uomo è stato rimesso in libertà. Poi la simulazione della protezione civile all'arme sisma, ma è soltanto una simulazione a spoltore evacuati 450 alunni della Dante Alighieri ha attivato il COC. Poi a Francavilla il giro di vite sulle tasse, Tari, buco da 4 milioni e mezzo, il comune ora caccia agli evasori. Sindaco e assessore al bilancio avvertono verifiche a raffiche e multe salate per chi non ha saldato, ma annunciano anche una modifica al regolamento per allungare le rateizzazioni degli arretrati. Poi ancora Francavilla stop al degrado, ripulita l'area dell'ex Migolf nella zona nord della città, battuto anche il rudere, il comune pensa a farci un parcheggio. Biometano c'è anche il no del Consiglio Comunale di Penne, votata all'unanimità la mozione del Sindaco Semproni contro l'impianto a Loreto. Un tale insediamento riguarda l'intero bacino fluviale della Valle del Tavo. Poi andiamo a vedere nel taglio basso il canneto delle sorgenti tra foto premiate, Popoli, lo scatto di Gianni Colangeli tra i nove vincitori del concorso, Vicky Lovers, Abruzzo. Siamo alle pagine di Chieti, ingiunzione ai politici, il buco nei tributi, tasse mai pagate, solleciti ignorati per 11 anni. Ecco come consiglieri ed assessori sono riusciti a non versare Tari, IMU e Mensa, ma ora la Teatreservizi presenta il conto, quasi 40 mila euro di cartelle e vase. Poi andiamo a vedere adesso sul messaggero la pagina di Chieti, la ASL punta sulle tecnologie e investe 15 milioni di euro. Previsto l'acquisto di molte apparecchiature si spenderà anche per esigenze del territorio. Il direttore generale Shell queste scelte sono la risposta al bisogno forte di innovare. Ecco il piano strategico per il 2020, tra gli obiettivi ridurre il disavanzo. Poi al via il teatro dialettale al Maruccino di Chieti, abbiamo così completato le pagine di Chieti, andiamo su quelle di Teramo, ricostruzione lumaca, post sisma, cielo che del comune agli aggregati edilizi volontari. Approvata la delibera in giunta, ora saranno pubblicati i moduli da compilare. L'obiettivo dell'ente è velocizzare le procedure in attesa della perimetrazione, mai fatta il sindaco. E ancora troppo poco di spalla. Gisonni creerò al più presto la struttura commissariale per il Gran Sasso. Questo il primo confronto con il deputato terramano Fabio Berardini. Riemerge un pavimento romano dagli scavi, è di età imperiale ed è in centro a Teramo, dove si sta installando la fibra ottica. Atri, accesso limitato dei corrieri in centro. L'ordinanza consente l'attività di carico e scarico merci solo in alcuni orari. L'elevato numero di consegni ha comportato problemi alla viabilità. Silvi, case popolari messe all'asta, agevolazione agli inquilini. L'assessore Valloscura dice che possono diventare proprietari pagando cifre contenute. Gli aiuteremo con i mutui. E poi il comune di Pileto dà il sostegno alla commissione segre. Andiamo sul messaggero per vedere insieme le pagine di Teramo. SOS Ponti, rischio chiusura, servono subito 52 milioni. Emergenza strade e viadotti, delegato alla viabilità, lancio all'allarme infrastrutture in città, il San Gabriele è nel degrado. I lavori di messa in sicurezza non partono. Lanfranco Cardinale dice che siamo preoccupati, da dieci anni non c'è più manutenzione, troppe sono le criticità. Accorpati il Milli e il Pascal è in rivolta allo storico liceo per quanto riguarda la riorganizzazione dei plessi scolastici a Teramo. Poi nel taglio basso, villaggio di Natale, oggi aprono stand e bancarelle, tutto pronto per l'inaugurazione in Piazza Martiri a Teramo. Mercato verso il trasferimento, la rabbia di 20 commercianti dopo il sopralluogo. E poi ancora nella pagina della provincia, abbattete il palazzo degli abusi. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del condominio disposta alla demolizione delle parti costruite irregolarmente a Giulianova. La sentenza è definitiva, ora aspetta il Comune dare corso al dispositivo con ordinanza alla zona. Ha un vincolo monumentale. Poi molestò due donne sullo e lungomare via al processo. Cinquantenne di Nereto fu bloccato da un carabiniere in vacanza d'Alba e rischiò di essere linciato dalla folla. A Tortoleto passano con rosso, le multe fanno incassare 306 mila euro. Andiamo a vedere anche la città per le altre notizie dal Teramano. Più veloce è la ricostruzione degli aggregati. Le nuove norme danno la possibilità ai proprietari di costruire un consorzio con progettazione unica. Poi si accende il Natale Teramano, villaggio in piazza, videomapping e concerto jazz per aprire le festività natalizie. Andiamo ancora avanti. Il maestro Maurizio Cocciolito lascia la Riccitelli. Poi Corso Vecchio trovato un pavimento romano durante i lavori di installazione della fibra di Open Fiber. La scoperta archeologica arriva dopo lo scheletro neolitico. Il generale Robusto alla Falcone e Borsellino. Il comandante dei Carabinieri di Calabria e Sicilia, originario di Atri, ospite delle iniziative sulla legalità della scuola. Confesercenti Ciabattoni alla guida degli albergatori. L'imprenditore di Alba Adriatica ha confermato presidente regionale di Assotel durante l'assemblea. 220 mila euro da investire sul lungomare di Martinsicuro. Il Consiglio Comunale ha approvato la manovra di bilancio. Ad Alba hanno pagati 132 mila euro di tasse sui rifiuti. Il comune riaccende il Natale giuliese. Per la prima volta dopo anni l'amministrazione torna a pagare le luminarie. Nessuna colletta non sarà necessaria per avere le luci di Natale. Dunque non ci sarà nessun pagamento da parte degli esercenti. Poi Casa Rosa. Il progetto riparte per quanto riguarda il dopo di noi. L'amministrazione di Roseto partecipa al bando per accedere ai fondi per la ristrutturazione dei locali. Prima di passare allo sport torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo nelle pagine dell'Aquila. Il delitto di Barisciano e le indagini ora spuntano i filmati delle telecamere. Le riprese possono svelare il passaggio dell'auto con gli assassini. Nel mirino i contatti di D'Amico con spacciatori ed operai. Poi ancora evasione fiscale assolto Pacilli e Chicarella Avezzano. Gli avvocati difensori si chiudono a vicenda eclatante per il Tribunale. Nessun illecito nel taglio basso. Secinaro, Macella, Pecore rubate. Sotto inchiesta un allevatore. Andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul messaggero. Gran Sasso, lo sviluppo bloccato dall'uso civico. Le ristrutturazioni delle strutture edilizie impossibili senza l'ok dell'hasbuk di Assergi. Sono al palo l'hotel Cristallo e l'ostello. Rischia l'albergo di campo. Imperatore. Il processo sacerdote ucciso chiesti 22 anni per Don Piccoli. Poi andiamo avanti con questa pagina. D'Amico, movente economico per i killer. Questo emerge dalle indagini sul delitto di Barisciano. E poi la polemica a caso segre romano contro Tinari. Il capogruppo di passo possibile fu ribondo per lo slittamento della cittadinanza onoraria. Nella pagina successiva soltanto un modulo per 13 chiese. Il caso di San Demetrio a 10 anni di distanza dal terremoto. Nessun edificio religioso inserito nei piani di ricostruzione. Il comitato. Ormai siamo stanchi di essere degli invisibili. Anche il MEP mostra infiltrazioni piovane e segni di degrado. Nella pagina successiva scuola ristrutturata crollano i pannelli ad Avezzano e l'elementare Mario Pomiglio ex San Simeo ricostruita accanto alla vivenza. Arrivano i vigili. Danni ma nessun ferito. La causa probabilmente le forti piogge degli ultimi giorni. L'edificio moderno appena inaugurato è costato oltre 2 milioni di euro. Siamo così arrivati alle pagine dello sport. Partiamo dall'Abruzzo Sport del messaggero. Sebastiani carica Pescara in salute. La vigilia col Perugia del Patrone ricca di spunti. Ci aspetta una partita difficile dice Sebastiani. In casa del Delfino si pensa a macinare altri punti anche se mancano dei titolari. Domani contro il Grifone una sfida tra tanti ex tra cui Massimo Oddo sulla panchina del Perugia che è stato allenatore del Pescara. Il Giro d'Italia in Abruzzo tappa decisiva. Il 19 maggio porterà la carovana rosa da San Salvo a Tortore Tolido con arrivo sul lungomare. Tra poco vedremo il servizio sulla tappa del Giro d'Italia. Ma intanto torniamo alla Serie B con la sfida di Perugia. Iemmello Galano ecco il Festival del Golli. Bomber della B avversari dopo aver giocato insieme l'anno scorso a Foggia. La punta biancazzurra vuole prendersi la scena. Il centravanti degli Umbri è il capo cannoniere del torneo con nove reti di cui cinque sul rigore. La scorsa estate è stato vicino al Delfino prima di andare da Oddo. Nel taglio basso Masciangelo titolare campagnero KO. Il terzino in vantaggio su Crecco. Problemi alla caviglia invece per il difensore argentino. Alcuni previsti 250 tifosi biancazzurri. Nel frattempo c'è un pari nell'anticipo. Il Cosenza si illude con Riviere. Lo spezza la ciuffa con Ragusa. Partita finita 1 ad 1. Andiamo avanti con la Serie C. domani alle 15. Cancellotti carica. Il Teramo voglia un Bonolis bollente. Il difensore chiama raccolte tifosi per la sfida. La capolista regina Ciancio e Cristini sono in dubbio. Andiamo a vedere la Serie C anche sul messaggero. Teramo la regina capolista fa paura. Maurizzi i calabresi sono bravi ma anche il diavolo va forte. Farà una bella partita così l'ex allenatore del Teramo. Attesi al Bonolis 600 tifosi ospiti. Tedino potrebbe rinunciare a Cristini che è infortunato. Titolo sul Teramo anche per la città. Brivido Cristini. Teramo col fiato sospeso. Problema ad una coscia per il difensore. Oggi il test è decisivo. In forte dubbio per il match di domani. Sarà decisiva la rifinitura per vedere gli sviluppi del colpo rimediato nella trasferta di Bari. E poi qui regina Toscano avvisa i suoi. L'atteggiamento non cambia. Il tecnico non entra sulla designazione di un arbitro pugliese. Se è stato scelto ha le capacità dice il tecnico della regina. Torniamo sul quotidiano il centro. Andiamo a vedere nel taglio basso di questa pagina i dilettanti. Il Pinetto Tessera di Renzo. Pippi svincolato per cercare di riprendere. Tomassini. Mangia Casale e Pera nel mirino del Castelnuovo. Questo è il mercato tra i dilettanti. Poi il rugby di serie B. Avezzano dopo il primato. Adesso vuole allungare. Marsicano in vetta. Grazie alla sentenza favorevole domani in casa contro Roma. Pagani caffrascati senza lo squalificato Carrillo. Le belve neroverdi a riposo. La promozione molisana. Un'altra favola. Castelli di Sangue primo e senza prendere soldi. Per il calcio a 5 a questa pone. Avellino e Jonas a rientro nella gara con l'Eboli. Andiamo a completare il messaggero con le altre notizie di Sport. Partendo dal basket di A2. Schatz affronta Forlì in campo. Lex Mariani. Gli squali si preparano a giocare contro la seconda in classifica. La palla a nuoto di A2. Il Pescara sfida i siciliani. Messina squadra tosta. Nel taglio basso. Avezzano vuole Cosenza. Pinetto Tommassini per il calcio mercato di D. Torniamo sul quotidiano. Il centro. Andiamo avanti con la palla a volo di A2. La seco impavida capolista. La favola di Carelli. Primo e debuttante a 30 anni. L'opposto. Una vita in serie B. E ora gioco contro gente che ammiravo in TV. Poi volle in nuova selezione delle ragazze martedì a Città Sant'Angelo. Il raduno delle atlete 2006-2007. Per il basket di A2. Roseto Jones. Lunedì la firma. Gli Sharshan in pugno. Il pivò americano che era scisso con i giapponesi del Kumamoto Wolters. Poi ancora il Teramo va in orbita con Cucchiaro. Il play guiderà domani la direttica press contro 100. Noi liberi da assili, dice il giocatore. Per la palla a mano di A2. La nuova HF. Esame contro la capolista. E poi la palla a nuoto. Messina-Lenaia. Di Pescara va a caccia delle tristi di vittorie. Ma torniamo sulla tappa del Giro d'Italia con la città. Giro 2020. Ecco la San Salvo Tortoreto. Presentata la tappa abruzzese della Corsa Rosa. L'Iris, i grandi campioni, torneranno nella nostra regione. L'incontro che c'è stato ieri per presentare la tappa in regione Abruzzo. La frazione di 212 chilometri si correrà il prossimo 9 di maggio e arriverà a toccare 17 centri della regione. Noi adesso andiamo a vedere il servizio. Prima però vi saluto perché la nostra rassegna termina qui. Vi ringrazio per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Adesso andiamo a vedere il servizio che presenta la tappa del Giro d'Italia. Direttore, un rapporto sempre più stretto tra il Giro d'Italia e l'Abruzzo. ogni qualvolta la carovana rosa arriva nella nostra regione. Ci sono giorni di grandissimo entusiasmo, di grandissima festa popolare. No, no, ma questo è assolutamente vero. Devo dire che è un po' una costante perché il Giro rappresenta proprio questo, la festa popolare. Quindi l'Abruzzo, come le altre regioni, da questo punto di vista è sicuramente una regione importante. Crediamo che questo rapporto sia principalmente dovuto alla serietà costruita nel rapporto in questi anni. Serietà, professionalità e soprattutto perché anche l'Abruzzo in qualche modo, a mio modo di vedere, ha bisogno di una strategia di promozione e di comunicazione del territorio. Quindi da questo punto di vista credo che il Giro d'Italia sia lo strumento migliore appunto per promuovere paesaggi, territori, culture e tutto quanto. Quindi credo che la scelta sia stata opportuna e noi torniamo sempre ben volentieri in Abruzzo. Assessore Liris, un grande successo riportare il Giro d'Italia in Abruzzo in una tappa molto interessante che attraverserà tutta la regione. Avete lavorato mesi per riuscire a raggiungere questo traguardo? Sì, già il 2019 è stato un anno dove abbiamo visto protagonista il Giro d'Italia nella regione Abruzzo con due tappe. Quest'anno abbiamo una tappa tutta adriatica, poi ci saranno delle sorprese per quanto riguarda gli anni futuri. È un rapporto con il Giro d'Italia che non vogliamo mollare perché il Giro d'Italia è l'evento per quanto riguarda il ciclismo ma anche lo sport in generale. È un po' l'esemplificazione plastica di quello che vorremmo fosse il brand dell'Abruzzo di qui ai prossimi anni, cioè costruito sui eventi di spessore, di qualità e di caratura con grande ricaduta socio-economica sul territorio con uno spessore che dà qualità al territorio, che fa scoprire la nostra natura e le nostre bellezze. Assessore Febbo, il Giro d'Italia torna in Abruzzo, San Salvo Tortoreto attraverserà tutta la nostra regione, un grande successo, una grande cartolina per l'Abruzzo. Beh sì, 200 chilometri dove si parte dal mare, si arriva in montagna, si passa tutta la collina abruzzese, meravigliosa, quindi una vetrina che RCS ci dà a disposizione anche quest'anno, non è stato facile ottenerla perché oramai dal 2013 si ripete, ma ci contiamo perché ci dà la possibilità, lo ha detto il direttore Vegni, ci sono 198 stati collegati, quindi uscire fuori dai convini regionali, uscire fuori dai convini nazionali e addirittura europei, quindi chiaramente massima attenzione e massimo rispetto per la competizione più importante che ha il mondo sportivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.